La coda è che ci sono due aranche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dalle 4 fino alle 6. Poi il terrente Bevole ha cominciato a esondare e ha cominciato a tracimare i fiumi. Dopo la gente tutta allarmata così, sono venuti tutti. Piano piano così. Fino alle 3 stanotte potevamo salire, salire, salire. Però penso che questo sia tutto da monte per tutta l'acqua che si è arrivata. E vedete tutte le cantine allagate, tutte le strade, le serre, i fiori, è tutto anche in paese. La gente è un po' arrabbiata, però d'altronde non si può rimediare. E adesso pian piano metteremo a posto tutti i problemi che ci sono stati. Molto, molto forte, molto. È stato dalle 2 fino alle 5 bombe d'acqua, tantissima d'acqua. Paura, paura. Fino alle 3 stanotte siamo stati lì sul ponte del paese, lì in via Roma, tutti a vedere, spostare le macchine così. Paura, paura. Paura, paura. Paura, paura. Paura, paura. Paura, paura. Paura, paura.